Direttamente da San Siro dove già sta per iniziare, diciamo così, la partita dell'Inter con due tifosi dell'Atletico Madrid. Hola Buenos Dias, come vede il partito di questa noce tra l'Inter e l'Atletico? Come vede la partita di questa sera tra l'Inter e l'Atletico? Vediamo il partito bene, siamo confiati, siamo l'Atletico Madrid e non abbiamo miedo a nessuno. Non hanno assolutamente paura di nessuno, sono l'Atletico Madrid e quindi possono farcela. Qual è il giocatore dell'Inter che ti piace di più? Conocemo Lautaro perché è argentino e ha vinto il mondiale, ma noi abbiamo tre campioni del mondo, che sono Nahuel Molina, Rodrigo De Paul e Angelito Correa, quindi tre campioni del mondo in nostra squadra. Conoscono Lautaro perché è campione del mondo, ma chiaramente l'Atletico Madrid ha tre campioni del mondo argentini nella sua squadra. Qual è l'equipo favorito? L'Inter o l'Atletico? Il partito è molto uguale, non c'è favorito, lo che si sappiamo è che il entrenatore favorito è Diego Pablo Simeone, che è il migliore del mondo. Diego Pablo Simeone è il migliore allenatore del mondo, questa sera non ci sono favoriti, ma il solo è il migliore allenatore del mondo. Passiamo a ti, tu che opinas di questo partitazzo di questa notte? Cosa pensi di questa partita di Champions di questa sera? Come dice Simeone, partito da partito, credo che va a essere una eliminatoria molto larga. Si va a giocare tanto e 90 minuti qui, non c'è che aspettare al metropolitano, che lì ci apriamo ancora più. Qui va a avere 3.500, ma lì va a avere 70.000 tios. Quindi, partito da partito, va a essere molto uguale, non c'è un 0-0 o un 0-1, ma l'importante va a essere la volta, dove si va a competire, dove si va a finalizzare l'eliminatoria in questo caso. Sostanzialmente oggi non dovrebbe decidersi nulla, 1-0 a 0, 1-0 a 1, con tantissimi comunque tifosi dell'Atletico Madrid veniti qua a sostenere l'Atletico. Al ritorno poi ci sarà la marea, diciamo così, rosso-bianca al metropolitano, una sfida che si va a giocare quindi non su 90 minuti, ma sul doppio confronto. L'ultima spregunta è come si acaba il partito di Hoyle. L'ultima domanda, come si va a finire la partita di questa sera? Il partito, credo che si va a finire in un gol. In un gol, speriamo che con la delantera che facciamo il giorenti Griezmann e la velocità di Giorenti facciamo un gol con un pass di Griezmann e se no, aguantare, aguantare e la volta daremo cagna al metropolitano. Quindi o 0-0 o 1-0 per l'Atletico Madrid con decisivi. Soprattutto potrebbe essere Griezmann. Lo mismo para ti che potrebbe essere l'ombre del partito e dell'Inter e dell'Atleti? Oggi crediamo che sia un partito per Rodrigo De Paul, che sia un ombro di partiti importanti per Cancero e arriva a vedere se Giorenti Griezmann o quando entra Murata ci dà un'allegria. Chiaramente può essere la partita di Rodrigo De Paul, che tra l'altro era stato anche accostato all'Inter prima di fermare per l'Atletico Madrid e poi dopo sperano che i subentranti tipo Murata possano dare un'allegria quando entreranno in capo. Bene ragazzi, grazie per aver avuto il partito. Ciao Paletti! Grazie! 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 Grazie!